Dopo la delibera di scioglimento dei consigli comunali di Gioia Tauro, Bova Marina e Laureana di Borrello per accertati condizionamenti dell'attività amministrativa da parte di infiltrazioni criminali decisa nella seduta del Consiglio dei Ministri lo scorso 11 maggio su proposta del Ministro dell'Interno, il Senatore Marco Minniti si è proceduto con i successivi decreti del 15 maggio da parte del Presidente della Repubblica ad individuare i componenti delle commissioni straordinarie incaricate di guidare i predetti enti in particolare la gestione del Comune di Gioia Tauro per la durata di 18 mesi è stata affidata alla dottoressa Franca Tancredi, vice prefetto al dottor Vito Turco, vice prefetto aggiunto e al dottor Bernardino Nuovo, funzionario economico finanziario per lo stesso periodo il Capo dello Stato ha nominato la commissione straordinaria alla guida del Comune di Bova Marina che è composta dal dottor Salvatore Caccamo, vice prefetto dal dottor Alberto Grassia, vice prefetto aggiunto e dal dottor Vito Laino, funzionario economico finanziario e infine il Comune di Laureana di Borrello, sempre per la durata di 18 mesi sarà amministrato dalla dottoressa Maria Luzza, vice prefetto dalla dottoressa Dele Mirra, vice prefetto aggiunto e dal dottor Matteo De Marinis, funzionario economico finanziario Grazie a tutti